buon pomeriggio ragazzi secondo video perché insomma ho fatto un video sfogo su un su quello che è accaduto ieri tra carta e il mio amico scacco sinceramente ho avuto un po di cose da dire detto questo che non c'entra nulla con il video che farò adesso ripeto andate su instagram cercate salotto nerazzurro e mettete il cuoricino ok mi raccomando così qualsiasi foto che pubblichiamo commento video live su instagram siete aggiornati potete venire farci compagnia interagire con noi è la cosa più bella insomma stare in gruppo parlare di dedicato dell'inter e quant'altro ok detto questo partiamo con il video allora la prima squadra che voglio un po per culare oggi è una squadra con i colori brutti ok il rosso e nero ok con tutta simpatia ovviamente non c'è nulla di offensivo però ragazzi allora per tutta l'estate per tutte vi siete gasate a manetta ho sentito alcuni miei amici colleghi e colleghi anche youtuber dicevano che il milan più o meno era ai livelli dell'inter ragazzi ieri ho visto il milan ha fatto 0 ti importa cioè in 90 minuti ha fatto 0 ti importa per farvi capire ok cioè una squadra che vuole puntare a tornare in champions league fa 0 ti importa avete fatto una partitaccia ok invece di venire a spottere a noi ok sul mercato tutto quanto arriva gioco arriva guardatevi in casa vostra che avete dei centrocampisti da serie b c'è cronice che ha giocato nell'epoli fino all'anno scorso c'è farvi capire poi è entrato quella ragazzina dell'udinese cross in mezzo testata una zero dell'udinese ok mi dite c'è un calcio di rigore per il milan giustissimo non io sono il primo a dirlo e la calcio di rigore perché come dai ricordi a me stessa ragazzi cioè veramente è ridicolo io lo dico cioè non non mi nascondo il calcio di rigore c'era poi se lo facevi bene se non lo facevi amen però io se devo essere sincero essendo un rivale quando il milan perde io sono sempre contento ok perché vedere i mianisti rosicale è la cosa più bella soprattutto il mio amico luca è dallo zoccolo duro e guarda comunque ha fatto un bellissimo video ieri c'è con con suo figlio che è stupendo complimenti luca ho visto il tuo video e mi sono divertito ti dico la verità poi un'altra squadra che sinceramente hanno fatto proclami che ci prendono per il culo barella di qua alla roma barel conte alla roma quel quell'altro alla prima di campionato la prima squadretta un po più decente a momenti ok hanno fatto tre tiri in porta del genoa non è che ha fatto chissà che cose tre tiri tre gol cento per cento come su fifa cioè fifa fai tre tiri tre gol quando è scrittato quando è scrittato devi fare 40 tiri ok quello quello che voglio dire che anche la difesa della roma ragazzi quando io a scacco dicevo ma tu vuoi vuoi fare un campionato con one jesus che non può circolare e fazio che più lento di me con la pancia ma ma stiamo scherzando avete un centrocampo che si è buono però poca roba ok cioè se la roma vuole essere la roma di quello di fabio capello mi dispiace siete lontani anni luce o almeno cercare di vincere una coppa italia come deve fare l'inter perché ok stiamo costruendo una grande squadra però siamo ancora agli inizi ok che diciamo il ritmo partita non c'è perché parliamoci chiaro nessuna di queste squadre ha fatto il calcio champagne perché abbiamo visto anche a firenze a firenze perché c'erano le praterie comunque è stata una bellissima partita peccato per gli episodi comunque ho preferito vedere fiorentina napoli e sinceramente di vedere parma juventus e udinesi mila che sicuramente mi hanno fatto cagare ok voglio essere sincero poi tornando alla roma comunque ragazzi ed in gecko fa paura cioè 33 anni gecko fa paura cioè ha fatto un gol che se ne è inventato cioè ha preso palla li ha saltati tutte e tre e la messa in porta cioè su questo non posso dire nulla sono se mi dite serosico per gecko si perché gecko è uno che davanti fa fa sempre paura anche a 33 anni la cosa che non ho capito sinceramente è perché la roma ha rinnovato un contratto a 33 anni sapendo che avete problemi di bilancio tanto vale che lo vendavate a 18 milioni euro all'inter ok visto che ho sentito qualche youtuber che ho conosciuto romano e ha fatto la battuta color vegeco insomma gecko miro miro del culo dico la verità color of così e così che hai ha fatto un bellissimo guarda che con la supposizione diciamo che la roma ha diciamo meritato vuol dire o meglio meritava di più di un semplice pareggio perché la roma ha bombardato il genoa c'è poi potrà finire 10 a 3 con quella con la partita ok però purtroppo il calcio è così calcio se sbagli paghi cioè puoi fare tre gol e ne prendi quattro cioè se non sei attento la linea difensiva ti purgano guardiamo in napoli con manolasse e cullibali grandissima difesa hanno preso tre gol la roma con jesus fazio che non possono circolare nessuno dei due hanno preso tre gol per fortuna fino a 3 a 3 pensavate se diceva faceva la beffa cioè vinceva gira 4 a 3 e la roma ha fatto 30 tiri in porta e vai a perdere liberamente tiro del culo pesantemente poi ho visto anche spalle atalanta nasce la miseria la spalla che è andata in vantaggio per 2 a 0 nel primo tempo se sembrava che era in controllo la spalla e invece nel secondo tempo si è fatta fregare 2 a 1 2 a 2 3 a 2 con due gol bellissimi di muriel quello non posso dire nulla però ragazzi attenzione a muriel perché è un giocatore discontinuo è partito bene alla fiorentina è partito bene adesso con l'atalanta però non è un fenomeno vi avviso che già ho sentito fenomeno muriel calma i fenomeni sono altri poi voglio fare i complimenti adesso ed obbligo visto che stiamo parlando di calcio a sinistra mihailovich che è tornato in panchina dopo esser stato in ospedale per la sua leucemia e ragazzi si risa è un uomo vero lasciamo stare quello che ha detto del allenare tutto quanto queste cose sono molto più serie e molto più delicate e mi ha invece uno che ha le palle sotto cioè è uno che dice no sto combattendo una malattia ma io sono più forte della malattia appena uscito dall'ospedale è andato in panchina a guidare il bologna questo va va dato atto che è un grandissimo ok visto che quasi nessuno mi pare che ha parlato di di mihailovich comunque grande sinistra mi ricordo una tua punizione inter roma a san siro fantastica guarda peccato il tuo passato rosso nero però va bene così insomma ho appena letto ragazzi una notizia di mercato giusta fresca 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 sembra che joao mario ci siamo levati dalle palle e dove è andato in russia al locomotive di mosca sembrerebbe che ci siamo levati dalle palle magari è un aiuto un piccolo campanellino per un giocatore che speriamo che arrivi quello che dicevo milinkovic magari magari faccio festa se arriva a sinistra è milinkovic avice ragazzi di altro che dirvi cioè del verona così non li ho guardate perciò non posso dirvi nulla il del napoli aveva già fatto il video e ripeto ragazzi io non non mi sento dire che il napoli ha rubato perché secondo me non ha rubato il problema dove sta che un conto dire cioè hai vinto 1 a 0 su un calcio di rigore inesistente allora li posso darvi ragione ma comunque il napoli non ha giocato male a differenza insomma hanno giocato dentro tutti e due la fiorentina ha fatto un partitone il napoli è stato più cinico a a buttarla dentro purtroppo le queste cose accadono e guardiamo anche sul milan insomma che bisogna dire purtroppo ripeto se il vara è usato così non serve a nessuno perché il milan gli hanno negato un calcio di rigore il napoli hanno regalato un calcio di rigore capite che basterebbe un po' di buon senso nella vita ok almeno andare a vedere visto che fiorentina inter oppure visto che c'è qualche altro youtuber romano che non faccio il nome un certo derby ok strokman ricordiamoci però vabbè non voglio dire altro perché sennò vado oltre ragazzi per stasera ore 20 45 scateniamo l'inferno scendere alla nostra inter con romero lukaku 60 mila persone facciamo il tifo dal primo al novantesimo minuto e facciamo gli sentire Antonio Conte chi è l'inter l'interismo altro altro che dai parliamoci chiaro gli altri colori sbiaditi noi siamo il calcio l'inter ha una storia gloriosa e caro Antonio Conte sono contento che sei arrivato da noi e stasera farai l'esordio con cioè fai l'esordio sulla panchina nell'azzurro che sono contentissimo speriamo di vincere e vediamo all'opera anche il nostro numero 9 il colosso che si chiama romero lukaku ok in attacco non so se gioca anche l'autoro martine sembra che non ancora visto le formazioni comunque detto questo lasciate like commentate scrivete il canale e sempre forza inter andate ripeto andate su instagram cercate salotto nell'azzurro lasciate un cuoricino interagite con noi non so chiedete informazioni che uno di noi sicuramente vi risponderà ok sempre forza inter